Sicuramente è stato un ritiro molto intenso dove abbiamo lavorato bene sia dal punto di vista fisico che tattico. Abbiamo cercato di soddisfare le richieste del mister mettendoci a disposizione in tutto e per tutto e penso che sia stato un ritiro positivo. La trattativa di quest'anno è stata molto semplice e molto veloce, appena saputo che c'era l'interesse da parte dell'Avellino ha dato subito la piena disponibilità per chiudere l'operazione. Infatti si è svolta in giro di due giorni neanche. Non so se sia un bene o un male il fatto che il mister spesso mi richiama per correggermi dove sbaglio. Comunque non ho preferenze, nel senso che io negli anni passati ho giocato spesso sia a 4 che a 5, quindi non ho preferenze. Infatti io sono contentissimo di essere approdato qui perché comunque la società mi ha fatto anche un contratto di tre anni, quindi vuol dire che ha stima in me. Aspetta a me di mostrare il mio valore e appunto rilanciarmi dopo una stagione dove non mi ha visto protagonista. Per quanto riguarda la concorrenza nel calcio c'è ed è giusto che ci sia. Comunque qua sono tutti ragazzi sani che hanno molta voglia di far bene, quindi penso sia sarà una competizione sana che può far solo chiedere il bene. Penso che ho avuto un calo soprattutto dal punto di vista delle prestazioni giocate, nel senso che vengo da un anno dove ho giocato poco. Sicuramente è stata anche un po' colpa mia perché magari non mi sono fatto trovare pronto le poche volte che ho giocato, quindi c'è grande voglia di rilanciarmi. Per quanto riguarda l'impatto col mister è stato positivo, il mister è un grande lavoratore, un grande perfezionista e quindi può solo che far crescere un giocatore. Sicuramente è un campionato dove ci sono piazze importanti rispetto magari all'ultimo campionato. Sarà un campionato difficile ma d'altronde ogni anno il campionato di Serie B è molto competitivo, quindi come tutti gli anni bisogna farsi trovare pronti. Non ci poniamo obiettivi a lungo termine, nel senso noi siamo qui per lavorare bene, trovare la condizione fisica ottimale e farci trovare pronti al primo impegno stagionale che è quello della Coppa Italia. Grazie.